Mi siete in giro? Parti! Rad Cartesi è decisamente più brillante nella fase iniziale, si porta a condurre, seguito da Giovanardo che si mette secondo, all'interno Muge del Field, di fuori Sir Spencer, poi Blu Vida, a pelle fan, più dietro Mr. Shah e Soparra Rosa. Rad Cartesi in maniera brillante davanti a Giovanardo che ha avuto buon gioco nel parcheggiare in scia con il cap verde, al terzo posto con il cap azzurro Sir Spencer che ha all'interno con l'altra giubba bianca e rossa Muge del Field, di fuori invece in giallo a pelle fan che precede Blu Vida con il cap rosa, all'interno della quale Soparra Rosa in giubba fucsia che chiude insieme allo stesso Mr. Shah. Un gruppo compatto con Rad Cartesi che non si sta certo dannando l'anima, gli altri lasciano fare, a secondo si mantiene sempre Giovanardo che anticipa costantemente Sir Spencer, in corda rimane invece Muge del Field, all'argo di tutti a pelle fan, Blu Vida, Soparra Rosa e Mr. Shah a chiudere. Passata l'intersezione delle piste, Giovanardo che si prepara già al fianco di Rad Cartesi all'esterno Sir Spencer che gradualmente si porta sotto, poi ancora pelle fan, Blu Vida, Mr. Shah, Muge del Field e Soparra Rosa. Se non abbiamo visto il progetto di 400, Giovanardo va in controllo su Rad Cartesi, adesso inizia ad attaccarlo in maniera più seria, poi Sir Spencer, ancora lo stesso Muge del Field, Blu Vida, pelle fan, Mr. Shah e Soparra Rosa. All'ultimo farlo Giovanardo che è passato in vantaggio rispetto a Rad Cartesi che prova ancora la ribalsa, gli altri sono più dietro e provano a intervenire ma sono ancora lontani da Giovanardo che è in piena spinta, il gruppone si avvicina ma il palo è lì e Giovanardo viene a concludere su Sir Spencer al secondo e al terzo posto, Mr. Shah. Vittoria per Giovanardo che concede il bis rispetto all'ultimo successo fiorentino, la giornata si apre in segno di Dario Vargi che colpisce per la signora Salerno al colore e il signor Berra al train.